Ed eccola qui la principale novità di casa Victrix, il modello Scorpio e 338 è veramente un bellissimo pezzo, trattamento TAN e... La forma come vedete non lascia dubbi, anche questa è una carabina che nasce per l'impiego per le forze speciali, questa volta parliamo di forze dell'esercito, come potete apprezzare rispetto a quella per l'uso di polizia, ha una canna più lunga che risuppone un raggio di ingaggio più ampio, il calibro stesso è portato per le lunghissime distanze, ricordiamo il 338 è un bezzuppostone che viaggia molto veloce e molto lontano e questo oggetto praticamente unisce l'esperienza della Victrix nei tiri di precisione sportivi alla lunga distanza con le caratteristiche specifiche dell'uso tattico in territori ostili, ostili non solo dal punto di vista politico ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale, cioè questa è una carabina nata e pensata per poter sparare nelle condizioni di sporco, di sabbia, di caldo, di freddo, di ghiaccio. Voi avanti al cuore. Voi avanti al cuore. Voi avanti al cuore. Grazie.